Io sono Piero Erculino e sono il personaggio principale del nuovo libro di Cacchi d'Amico. Sono forte, coraggioso e non ho paura di nulla. I miei lettori sono sicuro che mi ameranno. Come puoi non amarmi? Come puoi? Puoi, non puoi. Ciao, io sono Mary Fulenta e sono un personaggio secondario del libro di Cacchi d'Amico. Sono divertente, generosa e tanto, tanto pasticciona. I lettori mi ameranno tutti! Ciao, io sono Francettina e sono un personaggio non principale, neanche secondario, di passaggio del nuovo libro di Cacchi d'Amico. Io sono belle... no, non bella, no. Sono... sono un tipo e i lettori, ne sono sicura, mi ameranno... No, non mi ameranno i lettori! Un po' conno.